Morte bianca oggi a Cuneo Guido Tomatis, operaio di 59 anni, è morto mentre lavorava in un cantiere in Piazza Europa. Già consigliere comunale a Briaglia era presidente della Protezione Civile Comunale e del Comitato Landandè. Da Saluzzo il Piemonte ha detto no alla mafia, ricordando le vittime. 8.000 studenti hanno partecipato alla manifestazione regionale di Libera. Buone pratiche a difesa della donna vittima di violenza le hanno illustrate in provincia, mai più sole, asle a Cuneo 1 e ordine avvocati di Cuneo. Seconda perizia sui danni all'alberghiero di Mondovì per sapere a quanto ammontano i danni la chiesta alla provincia. Ben ritrovati cari telespettatori con un nuovo appuntamento con il notiziario di Telegranda curato dalla nostra redazione. Il notiziario che purtroppo apriamo con una brutta notizia e lutto nel Morregalese e in tutta la granda perché non ce l'ha fatta. Guido Tomatis, l'operaio di 59 anni di Briaglia, caduto questa mattina, mercoledì 21 marzo, nella tromba delle scale di un palazzo di Piazza Europa a Cuneo. Dipendente dell'impresa Gran Clima di Torino stava lavorando all'interno della filiale della banca di credito cooperativo di Pianfei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava scendendo una scala a chiocciola in ferro quando è scivolato ed è caduto da un'altezza di due metri e mezzo. Trasportato in codice rosso a Santa Croce è morto. Qualche ora dopo la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale cittadino in attesa del nulla osta per i funerali. Tomatis era stato consigliere a Briaglia e attualmente era presidente della protezione civile comunale e del comitato Landandè, il sentiero naturalistico di 22 chilometri che collega il paese con Vicoforte, Niela Tanaro e San Michele Mondovi. Lascia la moglie ma anche due figlie. Ci spostiamo ora a Saluzzo, cambiamo argomento. Saluzzo città che questa mattina ha accolto la ventitresima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Un evento regionale che ha raccolto 8 mila studenti da tutto il Piemonte sotto la bandiera dell'Associazione Libera in collegamento diretto inoltre con tante altre città italiane, europee e del mondo. 8 mila studenti da tutto il Piemonte che in contemporanea ad altre 20 città italiane, 10 europee e 7 dell'America Latina, 1 in Africa e 4 mila luoghi italiani hanno ricordato le vittime innocenti di mafia nella ventitresima giornata della memoria celebrata a livello piemontese a Saluzzo. Una giornata intensa che incoraggia a fare ancora di più e fare meglio come ha detto il sindaco della città Mauro Calderoni e che attesta l'esistenza di un'Italia che non vuole smettere di lottare. Più di 950 i nomi di vittime letti dai partecipanti alla manifestazione iniziata con un corteo che dal foro Boario si è concluso in piazza Garibaldi. Una macchia di colore accompagnata da canzoni simbolo come pensa di Fabrizio Mora ai cento passi dei Modena City Ramblers. Un evento per ricordare anche come oltre il 70% delle famiglie non conosca ancora la verità. Culmine della mattinata il collegamento in diretta con la piazza di Foggia e le parole di Don Luigi Ciotti. Ciotti che ha ricordato nessuno è necessario, nessuno è insostituibile ma nessuno può agire al posto nostro e come tutti siamo chiamati a scelte più coraggiose. Non ci si può limitare a chiedere cambiamento, dobbiamo esserlo noi stessi. Ha proseguito il fondatore di Libera, l'associazione che dal 1995 sollecita la società civile nella lotta alla criminalità organizzata. Libera che è stato l'organizzatore dell'evento. L'omertà uccide, ha aggiunto Don Ciotti esprimendo poi un pensiero per tutte le vittime di violenza, dal terrorismo al caporalato, dalla tratta ai migranti e ha ricordato come le mafie godano dell'ignoranza e dell'indifferenza. Importanti però anche i passi positivi compiuti in questi anni grazie all'ultima commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi, il cui rapporto a finale è stato votato all'unanimità da tutte le forze politiche, segno che, ha detto Don Ciotti, quando si vuole è possibile lavorare nella stessa direzione. La giornata è poi proseguita con alcuni seminari pomeridiani insieme anche ai parenti di alcune vittime di mafia come Giovanni Damiano, figlio di Amedeo Damiano. Ma sentiamo nel prossimo servizio le voci di chi ha organizzato e di chi ha vissuto l'evento. Abbiamo scelto Saluzzo per tre motivi. Uno perché volevamo parlare di accoglienza e di tante persone che arrivano da tutto il mondo per lavorare sulle nostre terre e sappiamo quanto Saluzzo sia un luogo che accoglie. La presenza di stagionali, specie di origine africana, sul nostro territorio per contribuire all'economia locale attraverso la raccolta della frutta è certamente uno degli elementi che ha fatto sì che venisse scelta la nostra città. Il secondo motivo è per ricordare il generale Carlo Alberto Dallachiesa che era un saluzzese ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo. Ho trovato particolarmente emozionante passare di fianco all'ala mercatale dove sono esposti i ritratti di Carlo Alberto Dallachiesa e di Amedeo Damiano. E il terzo motivo perché volevamo raccontare al Piemonte una storia che voi saluzzesi conoscete bene ma che gli altri non conoscono che è quella di Amedeo Damiano, questo uomo che per senso di dovere e di giustizia ha portato avanti questa opera di moralizzazione nell'asle di Saluzzo ed è per questo che è stato ucciso. È felicissima Libera Saluzzo perché è una risposta così meravigliosa da parte della città, delle scuole soprattutto, è incredibile. È un lavoro che dura da mesi, un fermento in città, una voglia di fare insieme, di collaborare, semplicemente meravigliosa. Qual è il motivo di essere qua in piazza oggi con tanti studenti e anche tanti figli di vittime di mafia? La ragione prima è fare memoria e usare questa memoria per impegnarci nel quotidiano a che il nostro paese sia migliore. La memoria senza impegno non serve, questo è il motivo per cui nelle scuole lavoriamo a raccontare il perché certe vite furono spese per determinati ideali che devono essere gli stessi sui quali oggi noi camminiamo. È un momento estremamente importante la dimostrazione che nel DNA della nostra città ci sono la correttezza morale, il rispetto delle istituzioni, l'impegno per la tutela dello Stato e della comunità. E poi una città accogliente, accogliente per tutti i ragazzi del Piemonte che hanno deciso di essere qui questa mattina e penso che sia quindi importante che tutte queste bandiere colorate, che tutti questi ragazzi aiutino la nostra città a mantenere queste caratteristiche. È un'emozione grande perché vedo tanti ragazzi che hanno voglia di ricordare, che sorridono, che si pongono in maniera positiva rispetto a questo evento e cosa che mi fa ben sperare anche per il loro futuro perché i giovani che dimenticano, un popolo che dimentica rischia di ritrovarsi di fronte a certi spetri, di fronte a certe cose del passato. Il papà in qualche modo si è speso anche per loro, è importante ricordarlo e i loro sorrisi, la loro gioia mi dà tanta forza e mi dà tanto coraggio per continuare nella direzione, nel solco che papà ha tracciato. L'emozione dopo tanti anni in cui partecipo a questa manifestazione è sempre la stessa, cioè quella di sentirmi il dovere di dare un tributo di memoria e di riconoscimento a tutte queste persone che sono morte per mano mafiosa e nello stesso tempo di contribuire con questa manifestazione a creare una coscienza, soprattutto nei giovani, una coscienza che gli faccia fare una scelta di campo decisa per tutta la vita. Minaccia aggravata e mancata, esecuzione dolosa di un provvedimento cautelare, sono le accuse di cui dovrà rispondere in tribunale ad Asti un cinquantenne disoccupato residente nel Roero. L'uomo già pregiudicato per minacce e violenze nei confronti della consorte che aveva quindi deciso di separarsi e di denunciare quanto accaduto e Carabinieri era sottoposto ad un provvedimento cautelare che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. Ciò nonostante si è recato presso l'abitazione dell'ex moglie, minacciandola con un bastone, la donna terrorizzata chiamati Carabinieri che lo hanno allontanato e denunciato alla procura per le minacce e per l'inosservanza delle disposizioni imposte dal giudice. Non è escluso che a suo carico venga emessa una misura cautelare maggiormente restrittiva. Continuiamo a parlare di questo tema della violenza sulle donne. Ieri in provincia Mai Più Sole ha proposto un momento di riflessione e formazione per avvocati in servizi sociali sul tema delle buone pratiche a difesa delle donne vittime di violenza. Perché, come abbiamo appena sentito oltretutto, la nostra provincia non esula da questi gravissimi fatti. Nel 2017, come Mai Più Sole, abbiamo incontrato 178 donne, ma donne che per la prima volta si rivolgono a noi perché poi ci sono le donne che più volte, ma queste nuove situazioni. Abbiamo dato ospitalità per 486 notti nelle nostre case rifugio. Quindi per essere una provincia tranquilla, serena, dove non succede mai niente, succedono delle cose gravi. Quindi noi collaboriamo moltissimo con il pronto soccorso che ci chiama proprio quando arriva una donna in difficoltà. Andiamo, lo ascoltiamo, sentiamo quali sono le sue esigenze, in che modo possiamo aiutarla, concordiamo insieme. Non facciamo niente che la donna non voglia. Quindi noi non siamo tenute a segnalare la situazione ai servizi sociali se la donna non è convinta di questo. Perché la prima domanda che ti fanno è sì, ma poi mi tolgono i bambini. Quindi noi cerchiamo proprio di accompagnarle in questo percorso, arrivando poi, a volte, quasi sempre, tante, insomma, alla denuncia se è il caso, all'allontanamento da casa, al divorcio, alla separazione, al divorcio. Questo è il nostro primo contatto. Il compito del medico è quello di descrivere accuratamente la lesione, di eventualmente fotografare la lesione, in modo che questo che è successo venga sancito una volta per tutte, venga stabilito una volta per tutte. Questo è uno dei compiti. Non è il più importante, perché il più importante è offrire un'assistenza che sia continuativa nel tempo, perché lei, la donna, ha bisogno di essere assistita, ha bisogno di una psicologa, di un'assistente sociale, ha bisogno di una ginecologa, che poi continui eventualmente altri accertamenti. Nell'intervento di oggi pomeriggio ha spiegato quanto sia importante rivolgersi, non a un avvocato, tra virgolette, generalista, ma a un avvocato specialista in questa materia. Sì, assolutamente, perché è una materia molto delicata, molto particolare, che prevede determinate competenze. Il nostro ordine sul sito presenta degli elenchi di avvocati iscritti al gratuito patrocinio e di avvocati abilitati al Fondo per la violenza delle donne vittime. È un fondo regionale che è stato istituito nel 2016 e che è molto importante per una tutela effettiva, perché lo Stato ha voluto intervenire con una decisione non solo di principio, ma anche con dei riflessi pratici molto importanti, cioè di agevolare l'accesso alla giustizia con l'assistenza legale gratuita. Ovviamente deve essere un'assistenza legale qualificata, quindi raccomandiamo sempre di consultare sul sito dell'ordine questi elenchi per la scelta dell'avvocato adatto. Nel caso una donna sia vittima della violenza, come fa ad accedervi? È l'avvocato che è iscritto a queste liste speciali, che deve informare al momento del conferimento dell'incarico la persona, quindi la cliente, della possibilità di poter adire a questo fondo ed è obbligato ovviamente a dare questo tipo di informazione. Come diceva prima la collega Costamagna, presso il foro di Cuneo ci sono 43 avvocati iscritti e quindi si può dire che il nostro foro è virtuoso, perché c'è una percentuale molto alta rispetto al numero degli iscritti in generale. Ancora una notizia di cronaca che ci riporta nel Saluzzese in particolare, però a Bagnolo un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 11.30 in una villetta bifamiliare a prendere fuoco un alloggio al piano superiore. Tre persone sono rimaste intossicate, due adulti trasportati con l'elisoccorso del 118 al CTO di Torino ed un bambino ricoverato al Regina Margherita. Le loro condizioni non sarebbero però gravi, secondo le prime ipotesi a causare le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito. E torniamo a parlare ora dell'ormai lunga vicenda del cantiere del Tenda BIS. ANAS infatti ha espresso la volontà di togliere l'appalto dei lavori alla ditta Grandi Lavori Fincosit. La notizia è stata diffusa tramite i social network dall'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco, secondo cui il riavvio dei lavori del cantiere con il subentro di una nuova ditta appaltatrice dovrebbe avvenire entro questo novembre. Ancora una svolta nell'ormai lunga e intricata vicenda del Tenda BIS. Questa volta ANAS sembrerebbe intenzionata a togliere la ditta Grandi Lavori Fincosit l'appalto per il cantiere, con una previsione di riavvio dei lavori con il subentro di una nuova ditta appaltatrice entro il prossimo novembre. Dunque vi sarebbero altri sei mesi di attesa all'orizzonte. La notizia è stata diffusa tramite i social network dall'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco, secondo il quale ANAS avrebbe inviato un'informativa alla CIG Alpi del Sud per informarla sulla propria intenzione di procedere con la risoluzione del contratto con la ditta Grandi Lavori Fincosit. La direzione tecnica di ANAS avrebbe espresso il proprio parere favorevole all'ipotesi rescissoria che ora al vaglio della direzione legale. A breve attesa dunque la formalizzazione dell'adozione del provvedimento a firma dell'amministratore delegato. Per quanto riguarda le tempistiche, secondo l'assessore ai trasporti sarebbe sostanzialmente confermato quanto illustrato dall'ingegner Murrone di ANAS nella riunione di inizio febbraio in prefettura Cuneo. Se la ditta non farà opposizione al TAR con richiesta di sospensiva, completati i rilievi che già sono in corso per la definizione dello stato di consistenza, entro settembre si procederà con l'interpello del secondo e in caso di rinuncia del terzo. La previsione, come detto, è dunque di un riavvio dei lavori con il subentro di una nuova ditta paltratrice entro novembre con altri sei mesi di attesa. Ma non è tutto, Balocco, sempre nella nota Facebook, ha anche spiegato che chiederà a breve la convocazione di una conferenza intergovernativa a Torino per discutere della questione del tende e della limitazione del traffico pesante imposta dall'ordinanza dei sindaci della Valroia unitamente alle questioni legate al rinnovo della convenzione italo-francese sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Restiamo in tema di viabilità. Non sarà soltanto merito del passaggio del Giro d'Italia previsto per giovedì 24 maggio, ma la Corsa Rosa ha probabilmente avuto il suo peso nel far partire i lavori per sistemare le frane sulla strada provinciale 3, nel tratto tra Novello e la Fondovalle Tanaro. L'apertura dei cantieri era prevista per lunedì, 19, ma il maltempo ha fatto slittare leggermente l'avvio. Le frane sulla provinciale risalgono al 2015. Dall'ora nella zona del transito è regolato da un semaforo che permette il passaggio a senso unico alternato. L'importo complessivo dei lavori di 682 mila euro saranno eseguiti due interventi da 212 e 470 mila euro che prevedono la stabilizzazione innanzitutto del pendio e poi la realizzazione delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque. Ed ora parliamo di lavoro. Torniamo sul caso Tronica, chiuso in tutta Italia, a grande compresa 43 negozi. I nostri colleghi di Imperia TV hanno intervistato un dipendente che sta vivendo in prima linea questa vicenda. Sentiamolo. Adamo, senza stipendio, sospesi, ma non licenziati? Esatto, sospesi, non licenziati, non abbiamo possibilità di sapere se possiamo prendere un altro lavoro. Dobbiamo semplicemente aspettare di capire oggigiorno il sindacato che ci dà una mano per poter riavere qualcosa di nostro. Quindi dallo stipendio ho la possibilità di un altro lavoro. Non siete assolutamente in crisi, ma un po' in tutta Italia? Sono in tutta Italia, sono 43-45 punti vendita perché comprende Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia. Come sei arrivato a questa situazione? Hanno comprato fondamentalmente gli investimenti sbagliati. Hanno voluto crescere, visto che le altre società di, chiamiamoli e-commerce, che in realtà non è, hanno cominciato a ingrandirsi e per stare dietro alla crescita di un pacchetto come poteva essere il gruppo Unieuro, SGM e Distribuzione, loro hanno voluto investire. Hanno prima rilevato tutti i negozi di Darty che in Italia, catena francese, aveva un po' di problematiche. Dopodiché è stato fatto l'acquisto del gruppo Fnac che comprendeva grossi negozi tra cui Napoli, Milano, Torino, Bologna, dove oltretutto il livello del prodotto era oltretutto a livelli molto più alti di quello che noi ci potevamo permettere sinceramente e questi investimenti hanno portato ad avere dei costi di gestione altissimi che non si potevano permettere. In più, la società è passata da 20 punti vendita ai primi 70 punti vendita in tre step semplicissimi dove l'organico interno degli uffici, ottime persone per l'amore del cielo, però erano persone che potevano gestirne 20, non 70, quindi anche i buyer gli veniva dato semplicemente poco prodotto economico per poter acquisire prodotti e quindi rimetterli in vendita. Ci sono delle speranze per il futuro? Sicuramente non di questa azienda, a meno che hanno già fatto questo gioco delle tre carte, siano stessi loro che si ripresentano e ricomprano tutto il pacchetto, ma oggi non penso, anche perché tutto il materiale è stato trasferito nell'unico negozio di loro proprietà che è a Taranto, quindi ripeto, sinceramente noi non ci crediamo più, anche perché ricominciare a lavorare per questa società a cui noi sono dieci anni, io dieci anni, molti miei colleghi sono 35 anni che danno questo tipo di sangue, perché fino allo scorso mese ci hanno dato direttamente, addirittura il nostro ex amministratore ha mandato una lettera, dobbiamo credere nell'azienda assolutamente, senza problemi, noi oggi siamo fuori da un punto vendita senza le nostre cose che sono chiuse all'interno del punto vendita, quindi non possiamo accedere neanche a proprietà di nostro carico, di nostro acquisto, prodotti di clienti, assistenza di clienti, che è la cosa più importante, perché per noi eravamo noi alla fine la faccia della società, quindi chi veniva da noi riconosceva me come il ragazzo che gli seguiva le problematiche della telefonia, il mio collega Marco per quanto riguarda i tv, a oggi noi siamo delle persone che ancora ci capita in giro, veniamo non dico additati, per l'amore del cielo che è una brutta parola, però veniamo riconosciuti come il brand Troni e stessa cosa come a livello nazionale, tutto il restante del GRE, che è la società dove è gestito il brand Troni, veniamo visti come la pecora nera, perché ovviamente abbiamo mandato informazioni su 250-200 punti vendita quando chi in realtà è in problematica e soltanto l'Ips Group con i 45. E continuiamo a parlare di lavoro, ci spostiamo però a Savigliari, i lavoratori dell'Alstom hanno approvato l'accordo sul premio di risultato e sulla contrattazione integrativa. Nella giornata di oggi, mercoledì 21 marzo, si sono infatti concluse le votazioni sull'ipotesi di accordo siglata lo scorso 16 marzo in Assolombarda tra azienda e sindacati. Su 827 aventi diritto hanno votato 503 lavoratori. L'accordo è stato inoltre approvato con l'85% dei voti a favore e il 13,5% dei voti contrari. Ora si attende ovviamente di conoscere l'esito delle votazioni di tutti gli altri dipendenti di Alstom Italia, un risponso che dovrebbe arrivare entro venerdì. Passiamo alla politica in attesa che si formi. Il nuovo governo abbiamo chiesto, infatti ai cunesi le loro speranze come stanno vivendo il dopo elezioni. Ora, elezioni del 4 marzo sono state premiate come è noto principalmente dalle urne il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Ora però c'è uno scenario un po' di impasso, uno scenario stagnante e noi siamo andati, andiamo a chiedere ai cunesi quali potranno essere gli scenari futuri, come si risolverà la situazione. Nessuna soddisfazione. Non è stato soddisfatto dall'esito? Assolutamente no. Adesso si parla un po' anche dei possibili scenari, c'è molta incertezza. Secondo lei, quale sarebbe un po' il governo dei suoi sogni? Cosa dovrebbero fare adesso? Fare quello che hanno detto, ma non accadrà mai. Fare quello che hanno detto, cioè? Cioè, pensare ai pensionati, pensare a creare posti di lavoro, benessere di tutti in generale. Non c'è niente da dire, ambrosi voti devono comandare. Quindi dare l'incarico a chi ha preso più... Esatto, niente altro da dire, perché è così, ambrosi voti... Nessun accordo, nessun... No, 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 di nessun tipo. Sono loro che devono comandare. Adesso vediamo cosa riescono a combinare anche loro. Sono asfatto soddisfatto, anche perché mi sembra che la situazione sia abbastanza seria. Il discorso è che ognuno tira soltanto l'acqua al proprio mulino. E a noi non pensa nessuno, se ne fregano di meno. Si fanno gli affari loro, tranquillamente, serenamente. Non è che si occupino più di tanto. La chiamano politica? Si occupano di politica, ma si occupano della gente. Non sono soddisfatto. Non è soddisfatto? Non sono soddisfatto perché avevo fatto delle previsioni un pochettino diverse. Poi vedremo quale sarà lo sviluppo futuro. Perché lo scenario adesso è un po' stagnante, non si riesce a uscire. Un scenario è un po' particolare. Allora vedremo quali saranno le proposte, le decisioni e, come dico io, la verifica finale. Ci sono quelli che, avendo preso il numero consistente di voti, si presenteranno come maggioranza. Ci saranno gli altri partiti che si presenteranno come minoranza. Una intercollaborazione giardidora. Questo è quello che si auspica a lei? Sì, l'opposizione non deve fare muro contro muro. Collaborare tutti? Collaborare tutti. Si metteranno d'accordo, non so, leghe e cinque stelle. Secondo lei arriveranno a un accordo? Penso di sì. Sono ottimista, penso di sì. Ma tanto la base è la legge elettorale, l'hanno fatta apposta per creare questo. Mi spiegherei che il Presidente della Repubblica prenda qualche decisione in merito e che riesca a convincere questi signori a trovare un accordo. Quindi le cinque stelle hanno preso molti voti, la lega anche, come se ne uscirà? Non lo so, vedremo, staremo a vedere. Venerdì e sabato si svolgerà la nuova edizione del convegno Wedge. Più di 150 specialisti provenienti da tutta Italia si incontreranno nella città degli Acaia per discutere e trovare soluzioni innovative sulle malattie cardiovascolari che, lo ricordiamo, rappresentano la principale causa di mortalità nel nostro paese. Il convegno è organizzato dal direttore del Dipartimento Emergenze e Aree Critiche dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo, Alessandro Locatelli, coadiuvato da Claudio Grossi e Giuseppe Musumeci che sono rispettivamente i direttori delle strutture complesse di cardiochirurgia e cardiologia dello stesso ospedale. L'obiettivo del meeting, spiega Locatelli, sarà l'analisi delle problematiche comuni a cardiochirurgia, anestesia e cardiologia con riferimento ai possibili scenari terapeutici innovativi. Ora a Mondovì per parlare di scuola, in particolare dell'alberghiero Giolitti perché la provincia ha affidato una nuova perizia. L'obiettivo è capire quanto ammontano i danni subiti a seguito della frana che ha travolto la torretta dell'istituto. Ormai sono trascorsi quasi tre mesi dalla frana che ha mangiato la terra al fianco dell'istituto alberghiero di Mondovì ma la scuola resta ancora chiusa. Le uniche novità arrivano sotto il profilo di indagine, questa volta da parte della provincia che ha recentemente affidato una seconda perizia ad uno studio tecnico di Cuneo per quantificare con precisione l'ammontare dei danni provocati dal distaccamento della frana. I tecnici non si sbilanciano in pronostici, ne lo fa la provincia in merito alla domanda più urgente quella posta dal collegio docenti in riferimento alla riapertura della scuola dove circa 800 studenti conducevano soprattutto le attività di pratica nei laboratori di cucina e sala. Serve capire se la porzione d'istituto dove ci sono le cucine e i laboratori si assicura ha detto ai mezzi di informazione la consigliera Milva Rinaudo cui compete proprio il settore scolastico e se gli studenti possono farvi ritorno. Capisco le ragioni di chi come docenti e presite premono per tornarvi ma al momento siamo tutti in doverosa attesa di risposte che solo i tecnici e i professionisti possono darci. La più urgente possiamo riaprire e se sì in che tempi ancora non lo sappiamo. Intanto sono arrivati a livello provinciale i fondi che l'ente potrà investire sulle scuole della Granda. Si tratta di 2 milioni e 460 mila euro. Ne beneficeranno le scuole di Fossano, Cuneo, Mondovì, Grinzane, Racconigi, Saluzzo, Savigliano e Alba. Sono le otto città dove ci sono le superiori per cui la provincia interverrà a breve con manutenzione e adeguamento di sicurezza. E concludiamo con una notizia di carattere sportivo. Il 2018 a Bra si è aperto all'insegna di importanti trionfi grazie ai risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale da atleti e squadre braidesi. Dopo l'omaggio alle campionesse dell'hockey, raduci da una stagione colma di successi, ieri l'amministrazione comunale di Bra ha ricevuto durante la settimanale riunione di giunta Fabio Carnebianca che nei mesi scorsi si è aggiudicato la medaglia d'oro ai campionati europei di Brazilian Jiu Jitsu, categoria 94 kg. Complimentandosi per i risultati ottenuti e sottolineando l'imprescindibile valore educativo dello sport, il sindaco Brunassibile e gli assessori hanno consegnato a Carnebianca una targa ricordo quale omaggio e ringraziamento a nome della città. Presenti in sala, oltre al campione europeo, anche il fratello, i fratelli e il padre Antonio, che è fondatore del centro judo cittadino. Bene, per il momento dalla redazione di Telegranda è tutto, noi naturalmente come sempre vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento con Granda Mattina domani mattina dalle 6 alle 8 e 30. Buon proseguimento. Grazie a tutti.